Ben trovati con un altro appuntamento della nostra vetrina dell'auto. Oggi ci troviamo a Legnano in via Toselli 46 da Fratelli Cozzi. Un appuntamento davvero da non perdere, quindi mi raccomando rimanete tutti lì davanti alla televisione perché ci sono tante 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 novità che non io ma il padrone di casa Roberto vi presenterà sia a partire dalla realtà in cui Fratelli Cozzi vive ma anche e soprattutto per quanto riguarda le novità e il sistema di vendita. Insomma davvero tantissime cose da scoprire, quindi io caro Roberto ti saluto e ti chiedo appunto di spiegare agli amici che ci seguono da casa qual è il vostro mondo. Il nostro mondo è il mondo che già tutti conoscete perché ci seguite da anni, è il mondo di tutti i marchi FCA, quindi Alfa, Jeep, Fiat e Lancia e il mondo di BMW e Mini con il marchio Prima Scelta, specialisti in chilometri zero e vetture aziendali. Ma è da mesi che abbiamo cominciato a parlarvi di un nuovo sistema di acquisto, questo sistema di acquisto che si chiama Sempre Nuova e ho in mano questa cartellina per leggevi dei dati. Siamo arrivati oggi all'82,7% di acquirenti che scelgono di avere una macchina in uso con un canone giornaliero a partire da 6 euro al giorno. Cosa vuol dire sempre nuova? Vuol dire che a partire da 6 euro al giorno io posso avere la macchina compreso manutenzione ordinaria, estensione di garanzia fino a 8 anni, fornitura di 4 pneumatici invernali o estivi a seconda della stagione, polizza mini collisione e vettura sostitutiva sempre disponibile. Quindi in sostanza le vostre preoccupazioni le lasciate nel cassetto perché avete l'auto con tutti i servizi compresi. a partire da un costo di utilizzo di 6 euro al giorno. Abbiamo veramente fatto un successo incredibile e ringrazio tutti gli spettatori della vetrina dell'auto. Sicuramente un'occasione da non perdere quindi anche perché andrà a catturare un po' l'attenzione di tutti quanti accontentando tutti quanti e quindi mi raccomando rimanete con noi. Occhio al firmato! Buongiorno, senta, sarei interessato o quella macchina? Prego, venga. Grazie. Signorina, premetto che pago tutto in contanti, eh? Non c'è nessun problema, può pagare come preferisce. Certo, ormai non lo fa più nessuno perché 8 macchine su 10 le vendiamo con questa formula. Conosce sempre nuova? Quelle formule tipo il noleggio, dove dentro c'è la manutenzione, le gomme. A conti fatti è la formula più conveniente rispetto al pagamento in contanti. Guardi signorina, io sono a posto così. Ho mio cugino che fa il meccanico e mi prende 70 euro un tagliando. L'altro mio cugino, quello di mia moglie, fa il gommista e mi prende 70 euro per le gomme. L'una? No, tutte e cinque, anche quella di scuola. Ah, fantastico, quindi è fortunatissimo perché oltre ad avere delle persone di fiducia che la seguono, spende anche poco, perché immagino che spenda poco. Non ho mai fatto i conti bene, però credo di sì, sì sì. Certo, quindi comunque il prezzo le va bene? Sì sì sì, il prezzo mi va benissimo. Vado a prendere il libretto della mia macchina? L'aspetto. Eccomi, quanto ha detto che mi faceva? Mi sa che aveva ragione. Con Sempre Nuova ha inclusi manutenzione, pneumatici, garanzia e assicurazione. Coditi la parte più bella della tua auto. Cara Moira, non vedevo l'ora di tornare qui da Fratelli Cozzi a Legnano per scoprire bene di che cosa si tratta questa formula sempre nuova che applicate. Allora, è un noleggio in proprietà dove tu hai un canone mensile con all'interno tutti i servizi, quindi hai già dentro i tagliandi, le estensioni di garanzia, la vettura sostitutiva, un altro treno di gomme e tutta la parte assicurativa legata alla macchina. Ma a proposito di macchina, entriamo nello specifico. Se io fossi interessata a una serie 2? Allora, ne abbiamo tantissime, sia benzina che diesel, cambio automatico, manuale. Diciamo che intorno ai 23.000 euro, quelle un po' più accessoriate, avresti un canone mensile di 362 euro, tutto incluso, che sono 11 euro al giorno. E così hai la tua serie 2 e insomma ti godi la proprietà della macchina con tutti i vantaggi del noleggio. Ma se invece io fossi interessata, rimanendo sempre nel mondo BMW, a una serie 1? Allora, abbiamo tantissime tipologie di serie 1, sia benzina che diesel, cambio automatico, manuale, diciamo che intorno ai 22.000 euro, avresti una rata da 331 euro, tutto compreso, come se fosse un canone gioglianniero di 10 euro al giorno. Senti, ma questa formula è sempre nuova. Io posso sfruttarla anche con una mini? Assolutamente sì. Anche qui, infatti, trovate mini, cinque porte, tre porte, countryman, clubman. Prendiamo in considerazione una mini cinque porte, che sono quelle che di solito vendiamo di più, sempre sui 19.000 euro. Avresti un canone mensile di 316 euro, tutto incluso, quindi tagliandi, vettura sostitutiva, l'estensione di garanzia, un altro treno di gomme e la parte assicurativa legata alla vettura, tutto compreso di 316 euro, che sono più o meno 10 euro al giorno. Senti, io ho capito che qui la convenienza davvero è di casa, però sono ancora un po' indecisa. Mi faccio un po' un giretto, chiedo anche ai tuoi colleghi, perché voglio scoprirne di più. Questa formula sempre nuova mi piace. Basta che compri una mini, però. Vediamo, eh. Consuelo, eccomi qui anche con te per capire come funziona la formula sempre nuova, se io volessi scegliere una Panda. Ok, allora, se volessimo parlare di una Panda, ti propongo una Fiat Panda Lange, 1269 cavalli, quindi una vettura per i neopatentati, è una chilometri zero e matricolata nel 2019. Cosa potrete trovare su questa Lange? La versione Lange, vi ricordo che è la formula, la versione più accessoriata, quindi ci saranno i cerchi in lega, il quinto posto già omologato, i comandi al volante, il bluetooth, il blue and me, quindi una macchina super fresca. Viene proposta con la nostra formula sempre nuova, che i miei colleghi ti hanno già spiegato, ma che facciamo giusto un ripasso. Formula sempre nuova vuol dire acquistare una vettura oggi con i vantaggi del noleggio, quindi che cosa ti comprenderà? Tutta la parte della manutenzione, quindi tu avrai i tagliandi, le gomme da neve, le stazioni di garanzia, la vettura sostitutiva, l'assicurazione furto incendio e la possibilità di sostituire la macchina dopo 3, 4, 5 anni. Quindi questi sono proprio quelli che sono i vantaggi che riprendono il noleggio. Riuscirete ad avere questa Fiat Panda con un costo di guida a partire dai 6 euro al giorno, quindi un piccolissimo prezzo che vi permetterà però di tenere la vettura sempre funzionante e sempre nuova. Quindi io non mi devo più preoccupare di niente, insomma. No, assolutamente, assolutamente. Benissimo. Mentre invece se io scegliessi una tipo? Se scegliessi una tipo ti potrei fare un esempio sempre di formula sempre nuova con un costo leggermente maggiore, quindi parliamo sempre di una tipo 1.395 CV, Palli è una quattro porte, chilometri zero immatricolata a fine 2018 con gli accessori più importanti, quindi il climatizzatore, fendi nebbie, comandi al volante, Blue & Me, formula sempre nuova con un costo di guida a partire dai 7 euro, quindi leggermente di più. Ovviamente la macchina è un po' più grande per la famiglia e sempre con tutti quelli che sono i suoi contenuti. Quindi ricordiamoli ancora una volta, i tagliandi, l'assicurazione furti incendio, le gomme da neve, insomma non dovete pensare più a niente, dovete soltanto guidare la vostra auto. Io però vorrei una macchina, sì, pensata per la famiglia, però un po' più grintosa come magari una 500X. Posso avere anche qui gli stessi vantaggi? Assolutamente sì, a tal proposito invece mi ricollego proprio a questa 500X perché con la formula sempre nuova a voi potrete acquistare non soltanto le chilometri zero ma anche delle vetture che sono già chilometrate, quindi delle vetture che hanno per esempio questa 500X che vi mostreremo poi, è a un fine 2018, a 8000 km, già con il cambio automatico, il climatizzatore, fendi nebbie, le ruote in lega, in questo caso abbiamo anche la telecamera posteriore, quindi una macchina molto completa e ti ricordo la possibilità di risparmiare un sacco di soldi perché il prezzo sarà sicuramente di molto inferiore ad un chilometri zero e anche di un nuovo. Avrete tutta la nostra formula con tutti i vantaggi e anche, ricordo ancora, la possibilità di sostituire la vettura con un costo di guida che sarà a partire dai 7 euro, quindi una chilometri zero o una vettura poco chilometrata hanno una formula che prevede più o meno lo stesso costo di guida. Quindi a me basta venire qui, scegliere la macchina che mi piace di più, che fa più al caso mio e poi, insomma, usufruire di questa formula sempre nuova. Esatto, esatto. Grazie Consuelo. Grazie a te, buona giornata. Ciao Alessandro, eccomi qui anche con te. Io sono quasi pronta, sto quasi per decidere la macchina che fa al caso mio. Intanto però mi hai preparato quel preventivo che ti avevo chiesto sulla Jeep Renegade. Oggi mi trovi pronto e preparato. Te l'ho preparato su una Jeep Renegade bianca del 2019, chilometro zero, perfetta. È una versione Longitude, 1000 benzina, tre cilindri, un motore nuovo ma molto affidabile. Ha già il navigatore, lo schermo grande, visto che magari vorrai sentire la musica in viaggio. È già, diciamo, quella che potrebbe fare al caso tuo. E soprattutto... Diciamo che la macchina mi piace molto, però io, insomma, dov'è che trovo la convenienza? La convenienza la trovi perché è aggredibile dalla forma sempre nuova. Quindi tu puoi avere l'auto con un costo di guida giornaliero a partire da 9 euro, ad esempio, e avere anche già tutta una serie di servizi inclusi. Quindi un'assicurazione furto-incendio che ti copre, puoi stare tranquilla sotto ogni punto di vista. Hai anche un pacchetto manutentivo, quindi tagliandi prepagati, un altro treno di gomme, un'estensione della garanzia. Insomma, hai la tranquillità di avere un costo di guida e nessun'altra spesa. Senti, io stavo facendo un giretto nel vostro salone qui da Fratelli Cozzi e, insomma, mi ero fatta un po' così prendere anche da una Jeep Compass e un'Alfa Giulia. Sono entrambe grigie. Ok. Qual è che mi consigli? Allora, diciamo che come posizionamento di mercato, bene o male, sono in linea l'una con l'altra. Hanno pressoché lo stesso prezzo, quindi anche qui è applicabile la formula sempre nuova. diciamo che puoi scegliere in base agli optional che ha uno rispetto all'altra. Ad esempio, la Giulia ha uno schermo con navigatore integrato, ha un cambio automatico, hai dei selettori di guida, quindi in base a dove stai percorrendo la strada puoi decidere come guidarla, mentre con Compass hai magari la comodità di avere una macchina un po' più rialzata. Sono entrambi diesel, hanno entrambi due motori che non ti daranno mai problemi. E poi, soprattutto, anche qui puoi utilizzare la formula sempre nuova, quindi puoi averla con una rata mensile, con inclusa un'assicurazione furto incendio e un pacchetto manutentivo di tagliandi, gomme, estensioni di garanzia. Addirittura hai una polizza che ti copre nel momento in cui fai un incidente, quindi sei tranquilla sotto ogni punto di vista. Io ci sono, io ho preso la mia decisione, ho scelto, io oggi uscirò da Fratelli Cozzi con l'auto dei miei sogni, ma non ve lo dico qual è, non lo dico nemmeno a te. Io vi dico soltanto di tornare qui, di venire qui e capire bene di che cosa si tratta questa formula sempre nuova, perché l'auto rimane davvero sempre nuova. Grazie Alessandra. Arrivederci.